Un nuovo centro di distribuzione di poste italiane a Taormina dispone di attrezzature di ultima generazione. Vi lavoreranno 22 persone. Il nuovo centro di recapito ha competenza su Taormina e altri 9 comuni messinesi. Ha a disposizione 11 auto, 2 scooter e 3 tricicli 100% elettrici con i quali quotidianamente i portalettere raggiungeranno 35.000 abitanti e 3.000 attività commerciali. Tutti i portalettere sono dotati di palmare per gestire la corrispondenza in maniera veloce e tracciabile per privati e professionisti. Il destinatario della corrispondenza potrà pagare da casa o dal posto di lavoro al momento della consegna tramite carta postamat, poste pay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus Maestro.